Gabriele D'Annunzio, La vita e le opere, introduzione allo studio di Gabriele D'Annunzio, fatto con la collaborazione del professor Carlo Zacco. Tanto per incominciare, sul nostro libro ci si chiede, ma Gabriele D'Annunzio è davvero un classico? Ecco, dobbiamo dire di sì. Quindi, senz'altro, certe volte si lascia più trasportare anche dalla sua stessa, se vogliamo, anche bravura, dal suo virtuosismo ed è poco sincero nelle sue opere. Tuttavia è stato in grado di esprimere i miti e le contraddizioni del suo tempo e poi ha dato voce al sogno collettivo di un vivere inimitabile, a cavallo fra 800 e 900. Il bisogno imperioso di innalzarsi al di sopra della folla. Tutte le cose di cui abbiamo parlato teoricamente, quando abbiamo introdotto il decadentismo, certi termini come snobismo, dendismo, eccetera. Ecco, li possiamo trovare bene esemplificati nella letteratura italiana, da Gabriele D'Annunzio. Vediamo un po' se riusciamo a... Insomma, Gabriele D'Annunzio fu un interprete del sentimento della decadenza, ossessionato dalla vita che fugge, dalle devastazioni che il tempo compie sugli uomini e sulle cose. E quindi, nello stesso tempo, anche dedicandosi al culto del suo corpo, se vogliamo, cercando quindi in questo modo di combattere contro questo tempo che è inesorabile e scorre. E poi, quasi arreso, sì, no? Anche lo vedremo una volta che, in un certo senso, verrà colpito, ferito ad un occhio, non ci vedrà, scriverà il notturno e comunque verso la fine della sua vita ha questa decadenza anche del suo fisico, se vogliamo. Insomma, espressione dell'atmosfera fin de secle. Ecco, quindi, paradossalmente, accanto a momenti più trionfalistici, noi li chiamiamo superomistici, no? Del superuomo. D'Annunziano, scusate, troviamo anche tante pagine di D'Annunzio legate alla descrizione estruggente di quanto è soggetto alla legge del deterioramento. E questo è uno degli aspetti più moderni della sua opera, che lo rende più interessante e significativo. Ecco perché, quindi, per noi è comunque un classico, Gabriele D'Annunzio. In realtà non si chiamava così, si chiamava Gaetano Rapagnetta. E quindi, come dire, è già evidente in questa scelta di avere un nome d'arte, insomma, di volersi anche un po' distinguere rispetto alla sua stessa origine. Tutto sommato, certo, lui era, la sua famiglia era benestante, ma era una famiglia di borghesi. Ebbene, si potrebbe, in un certo senso, leggere tutta quanta la sua vita come un tentativo di smarcarsi da questa pesante eredità borghese e di diventare un aristocratico per scelta, per elezione. Il tenore di vita è sempre minacciato dalla cattiva gestione economica del padre, sempre propenso, infatti, a contrarre debiti, no? Ecco, il cognome D'Annunzio è quello di uno zio che adottò il padre, lo zio adottivo, Antonio D'Annunzio, dal quale lui ereditò una discreta fortuna che gli consente di vivere di rendita. In questo modo può permettersi di seguire, per esempio, delle scuole piuttosto rinomate all'epoca, come il Collegio Cicognini di Prato. Quindi, D'Annunzio nasce a Pescara, è abruzzese, ma compie i suoi studi a Prato, quindi in Toscana. E si diploma lì, al liceo di Prato. E incomincia già lì a scrivere delle poesie, diciamo che, come dire, si distingue subito, si fa conoscere subito, no? E poi addirittura fece una specie di, proprio per farsi conoscere e per far parlare ancora più di sé, disse che, fece diffondere la voce che era morto, era morto un giovane poeta, era morto lui, Gabriele D'Annunzio, ma in realtà non era vero, solo per far parlare di sé. Comunque, a 18 anni si trasferisce a Roma per studiare alla facoltà di lettere, ma non conseguirà mai la laurea. Era, infatti, diciamo così, era interessato più che altro a entrare nei circoli più esclusivi, nei salotti bene della città. Scrive come giornalista, infatti in questo periodo, in alcuni periodici, soprattutto di argomenti mondani riguardanti la vita agiata e spregiudicata della nobiltà e dell'alta borghesia romana. Qui pubblica un'altra, a Roma pubblica un'altra raccolta di rime, intermezzo di rime. Nel frattempo aveva già scritto alcune novelle, novelle abruzzesi, che aveva raccolto nella raccolta Terra Vergine. Quindi, come vedete, ha già scritto parecchi raccolte di poesie, Primo Vere, Canto Novo, e poi adesso intermezzo di rime, e poi le novelle di Terra Vergine. Ha diverse relazioni in questo periodo, con varie donne della Roma bene, tutte storie molto romanzesche, finché nel 1983 non è costretto a sposare, come matrimonio riparatore, una duchessa, Maria Arduin, che era incinta di lui e dalla quale ebbe successivamente tre figli. Ecco, il periodo romano è un periodo importantissimo, poi lo vedremo, perché è anche il periodo in cui pubblica il Piacere. Il Piacere sarà pubblicato nell'89 da Treves, e il più importante editore italiano dell'epoca. Comunque, diciamo, i rapporti, ecco, i rapporti con le donne sono sempre rapporti sfuggevoli, insomma, sfuggenti, volevo dire, ecco. Per cui anche questo matrimonio dura poco. La duchessa chiederà il divorzio pochi anni dopo a causa delle continue scappatelle di Gabriele, tra le quali quelle con Maria Gravina, una scrittrice piuttosto nota all'epoca, sposata a sua volta, dalla quale ebbe anche una figlia, Renata. Ecco, come sottolinea anche il vostro libro, in un certo senso, Gabriele D'Annunzio è il primo divo della letteratura. Vediamo che D'Annunzio è quindi agli antipodi rispetto a Giovanni Pascoli. Giovanni Pascoli doveva vivere nascosto, ritirato, in quella casetta, ad esempio, vi ricordate di Castelvecchio, oppure in campagna, generalmente comunque lontano dalle folle. Invece, Gabriele D'Annunzio vuole far parlare di sé in tutti i modi, sia per le sue doti letterarie, sia, dicevamo, anche per tutte queste storie d'amore, e riesce sempre a catturare i gusti del pubblico, intercettando le ultime tendenze del mercato librario, e adeguandovi sì con disinvoltura dilettantesca. E quindi, oltre, dicevamo, al piacere, comunque in questi anni romani, scrive Il trionfo della morte, stampato nel 1894. e quindi, come vedete, un apprendistato poetico-letterario molto importante. Tutte queste donne, comunque, sia quella che ha sposato, sia le donne con cui aveva relazioni, rientreranno sotto nomi fittizi nelle sue raccolte poetiche e anche nel suo romanzo del piacere. Gli anni Ottanta sono un periodo molto prolifico per la scrittura di poesie di Gabriele D'Annunzio. Dicevamo, al periodo romano dei Salotti, delle cronache bizantine, sono queste riviste, appunto, decadenti, italiane, che fanno un po' il paio con certe riviste francesi, di cui abbiamo già parlato. Cronache bizantine chiamate così anche proprio per, diciamo, perché si esaltano questi periodi di decadenza della storia, no? Però anche molto raffinati e, insomma, dove prevalgono, appunto, queste, prevale l'apparenza. D'Annunzio provinciale di origine borghese si inserisce subito nella vita mondana aristocratica della Roma degli anni Ottanta e dell'Ottocento, con alle spalle già acclamate esperienze poetiche di influenza carducciana, cioè le prime raccolte, primo vero e canto nuovo, ricche di vitalismo, il vitalismo d'Annunziano, canta la gioia, canta la gioia, canta, appunto, in una di queste poesie giovanili, che ho scritto addirittura prima di arrivare a Roma. Il giovane D'Annunzio, così come aveva fatto il giovane Foscolo, intreccia relazioni, senza neanche, però, lo scrupolo di velarle con grandi passioni e grandi idealità, come aveva fatto Foscolo. Si tratta proprio di relazioni, fine a se stesse, che devono un pochettino arricchire la sua carriera di Don Giovanni. Dalla relazione, dal matrimonio con la duchessa Maria Arduin, iniziata tra il 1888 e il 1883, nasceranno tre figli, ma poi D'Annunzio avrà una relazione a Napoli con la principessa Gravina, dal 1891 al 1897. E dal 1897 un'altra relazione con Eleonora Duse, famosissima attrice del tempo. Quindi, come vedete, una vita molto movimentata. Ecco, nell'estate del 1891, Gabriele D'Annunzio lascia Napoli per Roma, anche per un amico, scrittore e giornalista, Edoardo Scarfoglio, che lì lo chiama, e lì fonda Il Mattino, che ancora oggi è il quotidiano napoletano più famoso. Ma, come abbiamo già fatto capire, continuano anche a Napoli le scappatelle, le storie d'amore effimere, esattamente come siano state le storie del genere anche a Roma. Ecco, al periodo napoletano risale anche il superomismo d'Annunziano. Sono gli anni in cui li conosce la teoria del superuomo di Nice, cioè di una superiorità che non ha necessariamente legami con l'aristocrazia, che però viene banalizzata da D'Annunzio, per il quale la superiorità è strettamente connessa con le origini nobiliari, cioè ereditarie, o comunque si tratta di una superiorità esteriore, superficiale, rispetto agli scritti filosofici di Nice. Le idee antidemocratiche di D'Annunzio sono espresse in un articolo sul mattino di Napoli, dicevamo questo giornale appena fondato dall'amico Scarfoglio. È interessante questo pezzo giornalistico intitolato La bestia elettiva, dove D'Annunzio sostiene che il popolo non ha dentro di sé il sentimento di libertà. Ecco, quindi il popolo è rozzo, è grezzo, adesso gli daranno anche il voto, diciamo così, già una parte insomma del popolo italiano vota. È già fin troppo larga questa parte per Gabriele D'Annunzio. Ci sono già dei caproni insomma all'epoca secondo lui che, ecco la bestia elettiva, che votano e che scelgono, che decidono e si sta imponendo questo diciamo questa democrazia che lui disprezza. È evidente che queste idee verranno poi recuperate da Benito Mussolini nel corso del ventennio fascista. Abbiamo già visto comunque un bellissimo video tratto dalla trasmissione del tempo e della storia che ci ha fatto intravedere quali sono i rapporti comunque problematici tra D'Annunzio e Mussolini perché comunque per Mussolini D'Annunzio era un personaggio scomodo perché poteva offuscare la sua persona insomma che doveva invece occupare tutta quanta la scena nel corso del ventennio per questo motivo fu relegato nel vittoriale ma non anticipiamo troppo eravamo arrivati a questo discorso della bestia elettiva del resto anche leggendo il piacere abbiamo notato questo che anche il nostro Andrea Sperelli condivide quest'idea di D'Annunzio antidemocratica cioè che bisogna eccellere e bisogna come dire vivere una vita un'esistenza al di sopra della massa di sopra della massa indistinta il popolo non ha dentro di sé il sentimento di libertà e quindi non merita il peso politico che gli è stato dato l'argomento non è privo di interesse per noi oggi visto che capita frequentemente che qualcuno metta in dubbio le capacità di scelta del popolo e quindi dica ecco come come vota male il popolo ad esempio è un retaggio di un atteggiamento sotto sotto aristocratico e dicevamo antidemocratico a Napoli con Maria Gravina si sposta a vivere a Napoli nei primi anni 90 abbiamo detto D'Annunzio subisce un processo per adulterio a seguito della denuncia del marito di lei del marito della principessa siciliana Maria Gravina Crullas e sarebbe il conte Ferdinando Anguissola di San Damiano che lo denuncia intanto la relazione con la Gravina si esaurisce in breve e ne inizia un'altra quella con Eleonora Duse famosissima attrice fan fatale che negli anni 90 era l'apice della notorietà ecco quindi dicevamo una relazione comunque importante perché nel 1898 D'Annunzio si trasferisce con l'attrice in Toscana prendendo dimora a Settignano nella villa detta La Capponcina ed è chiaro comunque che queste vicende avranno grande influsso anche sulle sue poesie in particolar modo le poesie dell'Alcione e questo è infatti il periodo in cui elabora il progetto delle laudi cioè un corpus possiamo dire poetico che è fatto a sua volta di quattro raccolte poetiche differenti una delle quali l'Alcione è da considerare il capolavoro poetico di D'Annunzio nel 1987 D'Annunzio viene eletto in Parlamento nelle file dei conservatori quindi della destra storica chiamiamola così c'è da dire però che subito si pentirono i suoi compagni di partito di avere un compagno del genere perché D'Annunzio certe volte era talmente bizzarro che andava a votare con la sinistra o addirittura con le frange estreme della sinistra quindi con i socialisti nel 1897 infatti tenta anche la strada della politica ma sempre in modo bizzarro ed esibizionista si presenta con la destra e viene eletto deputato ma dopo pochissimo tempo compie dei voltafaccia per passare alla sinistra a suo dire per protesta contro il regime particolarmente repressivo avviato dal governo Pellù insomma una vita sempre movimentata nel frattempo nel 1905 terminerà la relazione con la Duse e inizierà un'altra e poi altre ancora eccetera quindi vicende sempre piuttosto controverse la sua quella della sua vita intorno al 1904 1905 dicevamo abbandona la Porziuncola insomma questo luogo privilegiato che sarebbe quella villa della Capponcina che era anzi una villetta attigua a quella della Capponcina che il poeta volle chiamare Porziuncola così come si chiama Porziuncola la chiesetta dove San Francesco d'Assisi aveva voluto farsi trasportare in punto di morte la possiamo vedere ancora oggi quando andiamo ad Assisi addirittura inglobata dentro un'altra chiesa più grande vicende ancora molto controverse negli anni seguenti ad esempio nel 1911 D'Annunzio si indebita fino al collo e quindi scappa ripara all'estero vivendo per un quinquennio in Francia tra Parigi e Alcachon proprio perché aveva dei debiti delle tasse insomma da pagare non le vuole pagare e quindi scappa dall'Italia va a Parigi in occasione della guerra di Libia compose poi dichiarando il suo esaltato nazionalismo le canzoni delle geste ad oltremare destinate al corriere ricordatevi è in Francia mentre scrive queste queste poesie però incappa nella censura politica per alcuni versi ingiuriosi nei confronti dell'imperatore Francesco Giuseppe quindi appoggia la guerra in Libia esattamente come aveva fatto Pascoli e qui abbiamo un'analogia se vogliamo con Pascoli poi addirittura scrisse sceneggiature per il cinema in particolar modo la sceneggiatura per i film Cabilia del 1914 ambientato nell'antica Cartagine al tempo delle guerre con Roma come vedete quindi diciamo che lavora a 360 gradi anche nel campo del cinema perfino quindi ad esempio Pascoli era uno scrittore solo ed esclusivamente di poesie si può è scritto il fanciullino giusto per come dire per elaborare la sua poetica invece Danunzio scrive novelle guardate Terra Vergine poi la raccolta le novelle della Pescara seguente scrive poesie senza altro ma scrive tantissimi romanzi testi teatrali e perfino la sceneggiatura per un film arriviamo al 1915 siamo alla pagina 436 del nostro libro quando finalmente può terminare l'esilio francese giusto in tempo per arrivare in Italia quando scoppiano le grandi polemiche fra interventisti e neutralisti e lui evidentemente si schiera con gli interventisti promuove l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale e si arruola addirittura come volontario cioè prende parte attiva la guerra in diverse campagne militari finché non rimane ferito in un incidente aereo perdendo per un lungo periodo l'uso della vista scriverà in notturno piccole striscioline di carta perché non l'aveva perso del tutto l'uso della vista per cui gli era possibile scrivere anche se con una certa difficoltà e quindi scrive dei testi comunque molto interessanti perché questo notturno anche per lo stile particolarissimo questi periodi evidentemente più brevi magari anche per la necessità della situazione sono molto diversi rispetto alla sua prosa spesso molto più ampia distesa ma certe volte anche un pochettino complessa e volutamente artificiosa alla fine della guerra alimenta il mito della vittoria mutilata attenzione non dobbiamo dimenticarci quello che quello che ha combinato nella notte fra il 10 e l'11 febbraio del 1918 la cosiddetta beffa di Buccari entra con tre mass i mass sono motoscafi antisommergibili sono delle costruzioni abbastanza ingegnose degli italiani i quali riescono con questi trabiccoli insomma sott'acqua a mettere delle bombe in sostanza e quindi a far scoppiare esplodere e affondare delle navi nemiche le navi austrieche in particolar modo che sono in una sono lì al Quarnaro nel porto austriaco del Quarnaro siamo sempre se non sbaglio lì siamo nella zona dell'Istria più o meno più o meno e qui abbiamo appunto questa beffa di Buccari lui stesso partecipa insieme agli altri sommozzatori italiani insomma entra con questi questi massi insomma a distruggere queste navi austriache e questa è la cosiddetta beffa di Buccari poi c'è anche il volo di Vienna il 9 agosto lancia volantini di propaganda patriottica sulla popolazione viennese ma come stavamo iniziando a dire probabilmente l'episodio storico più conosciuto di d'annunzio è quello della presa su fiume la marcia su fiume infatti a causa della vittoria mutilata insomma sapete benissimo queste cose sapete che voi che conoscete amate tantissimo la storia bravi bravi quindi potrete amerete quindi senz'altro in particolar modo fra i vari letterati della storia della letteratura italiana d'annunzio perché sono molti agganci con il programma di storia in particolar modo dopo l'armistizio l'Italia pur essendo nazione vincitrice insomma ebbe non ebbe tutti i territori che considerava attenzione però considerava italiani non è detto che il fiume era una città italiana fino a un certo punto la stessa Trieste potremmo dire addirittura era una città italiana fino a un certo punto in realtà sotto l'impero asburgico erano state delle città multietniche davvero antelitteram l'impero asburgico era multietnico e quindi in questo impero convivevano insomma popolazione io stesso avevo un amico triestino che era di origini greche insomma quindi come dire questo è giusto per dimostrarvi come effettivamente c'era un'ideologia l'ideologia nazionalista la conoscete bene molto meglio di me ve ne avrà parlato la vostra professoressa di storia un'ideologia nazionalistica che diciamo così si diffonde tantissimo a cavallo fra 800 e 900 e sarà ahimè anche una delle basi su cui si fonderà il successo politico del fascismo comunque è chiaro è un nazionalista anche Gabriele D'Annunzio è così fiume non viene annessa all'Italia e lui cosa fa mobilita un gruppo di militari e con questi militari occupa la città di fiume che viene però presto sgomberata perché lo stesso governo italiano insomma sottoscrive il trattato di Rapallo riconosce la legittimità il trattato di Rapallo scusate riconosce la legittimità delle aspirazioni italiane sull'Istria però imponeva questo trattato che fiume fosse dichiarata città libera città aperta e quindi il nostro Gabriele D'Annunzio fu gentilmente invitato insomma a fare le valigie e ad andarsene da fiume dopo l'impresa di fiume D'Annunzio si ritirò si ritirò in una sorta di esilio dorato sul lago di Garda ricevendo visite frequenti dei legionari fiumani e di tutti i suoi ammiratori pubblicando il notturno le faville del maglio i canti della guerra latina il libro segreto insomma gli ultimi suoi testi le ultime sue opere è tenuto lì a bada e appunto dicevamo abbastanza segregato anche al nostro Benito Mussolini che sfrutta a suo vantaggio tanti come dire tanti aspetti se vogliamo del personaggio di D'Annunzio della sua ideologia soprattutto ma cerca di tenerlo il più lontano possibile dal potere ecco stavamo sottolineando proprio il nazionalismo di D'Annunzio dal punto di vista ideologico D'Annunzio propende sicuramente verso posizioni nazionalistiche ha preso chiaramente posizioni a favore dell'aggressività politica di Crispi sul piano interno la repressione dura di tutte le proteste anche se poi quando prende potere Pellù non è d'accordo con Pellù e si mette dalla parte addirittura dei socialisti pensate un po' sia sul piano esterno l'impresa di Adua l'Eritrea fallita miseramente l'interventismo durante la prima guerra mondiale la buffonata insomma la marcia su fiume la guerra in Etiopia condotta e vinta da Mussolini nel 1935 questo in uno degli ultimi anni della sua vita perché D'Annunzio poi morirà il primo marzo del 1938 scusate tre anni dopo l'impresa dell'Etiopia un anno prima dello scoppio della seconda guerra mondiale l'esibizionismo tipico di Gabriele D'Annunzio non bisogna pensare che la sua adesione alle idee nazionalistiche di destra sia di natura solamente politica ideologica o ideologica ad Annunzio la politica in sé interessa poco quello che gli importa è la possibilità di adottare un determinato stile di comunicazione fondato sull'esibizionismo sul culto narcisistico del leader sulla possibilità di guidare le masse influenzando il giudizio da un punto di vista emotivo più che razionale scusate leggete anche quello che c'è scritto sul vostro libro la pagina 438 il trasformismo di D'Annunzio il quale come abbiamo detto certe volte propende per la destra certe volte per la sinistra l'importante è per lui cambiare cambiare sempre cambia sempre cambia donne cambia stile letterario stile poetico eccetera eccetera certe volte anche il dilettantismo perché abbiamo detto che a lui interessa saggiare provare di tutto nelle direzioni più disparate anche se sperimenta tutto anche se certe volte almeno per alcuni aspetti in modo dilettantistico velleitario volontaristico e quindi senza una grande novità da dire se non in alcune opere che invece furono rilevanti quanto meno il populismo c'è in D'Annunzio molto della moderna comunicazione politica che punta alla cosiddetta pancia falleva su argomenti populisti pur di raccogliere un facile consenso a tutti i costi atteggiamento filo borghese addirittura abbiamo detto quasi aristocratico se vogliamo un disprezzo per le masse popolari che vanno appunto dominate sia con l'uso mediatico della parola sia con politiche economiche a favore delle classi superiori l'alta borghesia se di borghesia intendiamo l'alta borghesia l'elite da qui l'adesione alla politica imperialista che è l'espressione dell'alta borghesia tardo-ottocentesca il disprezzo per le masse quindi il disprezzo per la stessa democrazia e per le classi operaie salvo che per snobismo certe volte lui si trovi addirittura a fianco dell'estrema sinistra del resto lo sapete benissimo anche lo stesso Mussolini all'inizio era socialista ecco l'estetismo dannunziano l'estetismo dannunziano si collega alla sua concezione dell'arte la quale a sua volta si identifica totalmente con la bellezza ma nel caso di dannunzio questa concezione ha carattere ambivalenti da un lato abbiamo visto che dannunzio si pone come ultimo vate erede di una tradizione umanistica e terzo nella trafila dei moderni dopo Carducci e Pascoli c'era un po' l'idea delle triadi allora c'era stato che ne so Foscolo Leopardi Manzone all'inizio dell'ottocento adesso arrivava lui come terzo dopo Carducci e Pascoli con tutte quelle connotazioni dell'intellettuale umanista solitario separato dalla società dedito agli studi delle belle lettere certe volte però certe volte è così anche lui si apparta dall'altro lato si pone invece come moderno esteta fa di sé un mito di massa cavalca le mode e crea gli stesso delle mode questo aspetto della personalità artistica di dannunzio è un carattere paradossale contraddittorio la contraddizione sta del fatto che da un lato si pone come mito di massa celebrato in quanto tale dicevamo il primo divo della letteratura dall'altro un genio superiore al di sopra delle masse con un atteggiamento aristocratico di aristocratica superiorità come si spiega questa contraddizione l'unico modo è far coincidere arte e vita facendo della propria vita uno spettacolo e di sé stesso un oggetto di mercificazione esempio dopo la pubblicazione della prima raccolta poetica d'annunzio diffonde la notizia della sua stessa morte come vi ho anticipato e raccoglie una serie di necrologi che lo esaltano come grande poeta insomma l'arte e la vita coincidono l'una in funzione dell'altra come vedremo nel personaggio di Andrea Sperelli protagonista del romanzo il piacere di cui parleremo la prossima volta grazie a tutti